Sì, è arrabbiata questa signora, ce l'ha con chi dice che tutti i musulmani sono terroristi. Questa gente non pratica l'islam perché se praticassero l'islam non farebbero questo, dice la donna di 60 anni e poi aggiunge, per amor di Dio non sono né musulmani né cristiani, sono criminali, sono assassini. Io sto piangendo per tutti, non si può perdonare questo. La signora è scesa in piazza con altri musulmani, si sono riversati tutti sulla Rambla per una netta presa di posizione contro il terrorismo. Sui cartelli ci sono scritte come questa, l'islam è pace. No alla paura è anche il messaggio lanciato dall'associazione Avaaz che ha organizzato una manifestazione pacifica davanti all'ingresso del mercato della bucheria. Siamo qui per portare un messaggio di speranza, di solidarietà alla città. Vogliamo dire ai cittadini di Barcellona che non sono soli, spiega Patricia Lopez Villalon. Il nostro messaggio di unità, solidarietà, dobbiamo rimanere uniti, non dobbiamo farci sopraffare dalla paura.